Secondo tutti gli studi fatti recentemente, tutti affermano che il motore dell'Italia sono le città medie. EFAM a pieno titolo rientra fra queste. Siamo di fronte a grandi opportunità, a cominciare dalle risorse del Recovery Fund, quindi è importante che queste risorse arrivino veramente a creare la crescita, a rinnovare una crescita del nostro Paese. Purtroppo negli ultimi anni abbiamo registrato una distribuzione di risorse ministeriali soltanto alle città capoluogo. E questa io la reputo un'ingiustizia. Fra l'altro città capoluogo che in molti casi sono anche più piccole di altre città che stanno all'interno della stessa provincia. Allora io penso che sia il momento che si ritorni a riequilibrare perché rischio altrimenti che le risorse vadano soltanto in una determinata direzione e altre rimangono sempre fuori da queste opportunità. È una questione di pari opportunità, è una questione di giustizia. E allora mi sono messo a capo di queste tante città che ci sono in Italia proprio per richiamare questo elemento, per ricreare una giustizia e per un'equa distribuzione delle risorse che facciano ripartire questo Paese.